8 benefici del tè al basilico. Oltre ad essere un perfetto alleato in caso di cattiva digestione, il tè al basilico aiuta ad alleviare la cefalea e ad evitare gli effetti dello stress. Il basilico è una pianta medicinale e aromatica utilizzata da centinaia di anni per i suoi molteplici impieghi culinari e curativi. Appartiene alla famiglia delle labiacee ed è caratterizzata da foglie dalla forma ovale e fiori in ramo di colore bianco o rosaceo che si possono vedere durante l'inverno. Il basilico vanta proprietà curative, infatti contiene sostanze attive antispasmodiche, antibatteriche e antinfiammatorie. È ricco di oli essenziali, antiossidanti e altri composti nutritivi che offrono un'ampia gamma di benefici per la salute. Molti utilizzano il basilico da decenni come trattamento alternativo per l'ansia e alcuni dolori fisici. Tuttavia, non tutti conoscono le meravigliose proprietà di questa pianta, perciò ignorano che favorisce il benessere del corpo. L'infuso o tè di basilico è il modo migliore per sfruttare appieno tutte queste proprietà. Oggi vogliamo svelarvi otto motivi per cui vale la pena berlo ogni giorno. 1. Migliora la salute respiratoria I composti del basilico conferiscono a questa pianta interessanti proprietà che riguardano la salute del sistema respiratorio. Il suo potere antibatterico, depurativo ed antinfiammatori aiuta a pulire le vie respiratorie, rimuovendo le tossine responsabili di malattie. Il basilico ha un effetto espettorante che contribuisce a smuovere il muco per evitare problemi quali bronchite o asma. Inoltre, dato che migliora le difese del corpo, è una soluzione efficace per far fronte ai sintomi dell'influenza e del raffreddore. 2. Protegge i reni L'azione diuretica di questo tè è ideale per favorire il buon funzionamento dei reni, soprattutto quando nei tessuti si accumulano liquidi e tossine in eccesso. Le sostanze antinfiammatorie presenti nel basilico aiutano ad ottimizzare la funzione dei reni, evitando lo sviluppo di infezioni o problemi di insufficienza. Gli antiossidanti creano una barriera protettiva contro il danno ossidativo e le tossine, quindi diminuisce il rischio di calcoli renali e malattie croniche. Come se non bastasse, aumenta la produzione di urina, favorendo l'eliminazione dei batteri che proliferano nelle vie urinarie. 3. Combatte lo stress Gli estratti naturali che si ottengono con l'infuso di basilico hanno un effetto antistress che in pochi minuti rilassa il corpo a livello sia fisico sia mentale. Il consumo in piccole quantità di tè al basilico aiuta a frenare la produzione eccessiva di cortisolo, l'ormone dello stress, e aumenta quella di endorfine. Inoltre, grazie alla sua capacità di inibire lo stress ossidativo, questa bevanda è ottima per migliorare il rendimento. 4. Previene le infezioni del cavo orale I composti antimicrobici del tè al basilico creano una barriera protettiva contro i germi responsabili di infezioni e malattie del cavo orale. Puliscono in profondità la bocca e facilitano l'eliminazione dei resti di cibo che fanno proliferare i batteri. È un rimedio casalingo contro disturbi quali l'alitosi e la gengivite, infatti neutralizza l'alito cattivo e riduce l'infiammazione. 5. All'alto contenuto di flavonoidi e tannini, il tè al basilico è un grande alleato per prevenire l'invecchiamento cellulare prematuro. Queste sostanze, insieme agli oli essenziali, proteggono i tessuti dal deterioramento causato dai radicali liberi, evitando la comparsa e lo sviluppo di malattie gravi. Inoltre, protegge la pelle dalle rughe e dalle macchie associate al passare del tempo. 7. Migliora la digestione Il basilico è una pianta digestiva che può aiutare a controllare il mal di stomaco, l'eccesso di gas e l'infiammazione. Il consumo dell'infuso di basilico alimenta la flora batterica dell'intestino e aiuta ad eliminare le tossine che vi si accumulano. È un buon rimedio in caso di indigestione causata da pasti troppo pesanti, infatti regola il pH dello stomaco e frena la produzione eccessiva di succhi gastrici. 8. Controlla l'infiammazione Bere questo tè tutti i giorni è un modo per riequilibrare i processi infiammatori del corpo, soprattutto in caso di lesioni o malattie come l'artrite. I principi attivi naturali riducono l'infiammazione, stimolano l'eliminazione di liquidi e prevengono il dolore.